Ci sono robot che si muovono, prendono oggetti, li riconoscono, oppure che lavorano in fabbrica, assemblano pezzi, prendono materiali dai magazzini. Non è più fantascienza, è uno scenario che già vediamo nella casa domotica della scuola Sant'Anna, qui a Peccioli. Se perdiamo gli occhiali, insomma, o se ci manca la medicina a letto, ci pensano loro. E dieci gruppi di ricerca da tutta Europa si sfidano in questi giorni per trovare la soluzione più efficiente e più utile. Ma quando saranno, anche nelle nostre case? Presto, pensiamo presto, magari per fare cose semplici all'inizio. E le gare che facciamo qui serviranno proprio ad accelerare questo processo. A che livello è la ricerca in Italia e in Europa? Ma non siamo piazzati male in Italia, direi che siamo in linea con la ricerca sia in Europa che nel mondo. Indubbiamente in questo momento sono molte le aspettative, però il cammino è ancora abbastanza lungo. Qui siamo nel campo della robotica di servizio e, come dicevamo, le aspettative sono di avere dei sistemi un po' più intelligenti, con i quali anche possiamo dare comandi vocali. Avere finalmente dei servizi ci si aspetta. A casa mia lo aspettano da parecchi anni. Qualche esempio, cos'è questo attrezzo? Giulio Fontana del Politecnico di Milano. Questo è quello che chiamiamo un marker set, è un oggetto con delle palline riflettenti che vengono riprese da un sistema composto da 12 telecamere che sono posizionate nell'ambiente e questo oggetto qui viene localizzato da un sistema di cosiddetto motion capture con una precisione dell'ordine del millimetro. Questo viene montato sui robot e ci consente di sapere effettivamente in quale posizione si trova il robot nello spazio. Questo viene confrontato con la posizione che il robot crede di avere in maniera tale da riuscire a capire, a misurare qual è la precisione del robot nel misurare la propria posizione. Questi robot già adesso parlano e capiscono il nostro linguaggio. Vero Emanuele Bastianelli della Sapienza di Roma? Beh sì, diciamo che è anche uno dei aspetti fondamentali di questa competizione cercare di fornire un livello di interazione che sia flessibile e a livello umano per i robot. Quindi una delle cose che stiamo testando è la loro capacità tanto di comprendere il linguaggio e fare quindi azioni che vengono richieste o esaudire richieste in generale quanto anche a riprodurre dei suoni umani per fornire un feedback aiutenti. È molto animata la casa domotica, insomma voi che siete parroni di casa siete anche molto accoglienti. Sì sì, siamo molto contenti di ospitare questa importante manifestazione europea e ormai diciamo questo laboratorio sta diventando sempre di più una infrastruttura permanente di sperimentazione di servizi robotici e di tecnologie robotiche e non a caso ecco questo è uno dei tre laboratori e una delle tre infrastrutture europee che si chiamano RIF, Robotic Innovation Facility, che è incluso in un network europeo appunto per validare, testare e misurare le capacità e le performance dei robot in ambiti di servizio. E mentre qui fanno le gare voi continuate anche a sviluppare la ricerca? Eh certo, noi comunque siamo sempre lì al pezzo.